Ora voltiamo pagina, ma parliamo ancora del gruppo PSA, questa volta però del marchio Peugeot, la capofila, con la nuova vettura recentemente presentata, si tratta della 208 GTI by Peugeot Sport. Per noi che eravamo giovani, la puzza di olio, di ricino e di benzina e anche solo il rombo dei motori che scaldava gli animi e faceva tremare le case, era un rendimento di una bellezza unica. Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport raccoglie il testimone della 208 GTI trentesimo anniversario, serie limitata di 900 esemplari di cui 40 venduti nel nostro paese, ed è la più radicale ed esclusiva delle 208, frutto del lavoro degli esperti del reparto corse del Leone. Il temperamento esclusivo di 208 GTI by Peugeot Sport, equipaggiata con l'1.6 THP Stop & Start da 208 CV, copia massima di 300 Nm, è dotata di differenziale a slittamento limitato Torsen e esaltato dall'assetto ribassato di 10 mm, dalle carreggiate allargate 22 mm anteriormente, 16 mm posteriormente, dai cerchi nero opaco da 18 pollici, dalle pinze freni rose e grifate Peugeot Sport e dal doppio terminale di scarico. Ovviamente anche l'abitacolo e in particolare il posto di guida ha un'impostazione spiccatamente sportiva ed esclusiva, così come la proposta che abina per la carrozzeria il nero della parte anteriore rivestita da una vernice testurizzata, a cui suventra con un taglio netto il rosso lacca nella parte posteriore. 208 GTI by Peugeot Sport è disponibile anche nelle tonalità alto di gamma bianco perla, madre perlato e rosso rubino, colori storici delle GTI di Peugeot.